E nel pomeriggio invece Beppe Dossena, proprio sfruttando un bel lancio in profondità, il contropiede con il Beveren tutto slanciato in avanti, perfora la nebbia e perfora anche il portiere delle Beveren e dunque il Torino si qualifica alla grande, è ancora imbattuto in queste prime sei partite di Coppa che ha giocato. Ecco ancora il gol di Beppe Dossena.